Bella a tutti ragazzi, qua all'OriPastex e bentornati in un nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qua per un video tanto atteso dove vi ho chiesto anche stamattina alle 10 e mezza perché lo sto registrando lo stesso giorno, di farmi delle domande per fare un Q&A. Ragazzi, faremo un Q&A molto interessante, tipo intervista doppia ma questa volta mi dispiace ma sarò da solo per vari problemi di tempo. E quindi ragazzi, noi che dire, passiamo subito al video. Ricordo di lasciare un like, commentare e iscriviti al canale. Che youtuber segui? Seguo un po' di gente a caso. Segui youtubers stranieri? Sì, come DanTtm. A che youtuber ti ispiri? Non mi ispiro a nessuno specialmente ma vagamente a Efrem YouTube che è un canale con 15.000 iscritti. Ritornerà a Minecraft? Penso proprio di sì, ma anche in compagnia di vecchi amici che sono stati. Ritorneranno le live? Le live ritorneranno, sì, però non so ancora quando. E se hai detto sì alla domanda 5, puoi portare live sul PlayerUnknown's Butterground? Mi dispiace ma non potrò portare questo gioco perché il mio computer ha delle specifiche grafiche che non tengono questo gioco e non posso. I nuovi format che vuoi portare? I nuovi format che voglio portare sono come questo, intervista doppia che però non è un'intervista doppia, è un'intervista singola e spero comunque vi piaccia e anche molti altri format che non vi svelerò. Visto che hai oscurato gli iscritti, ora quanti ne hai? Eh ragazzi, adesso non sei tanti iscritti. Farai collaborazioni con altri YouTuber? Sì, ma più avanti. I prossimi miglioramenti che vuoi avere? Le migliorate nel editing e portare più qualità ai miei video. Nome? L'odinza. Soprannome? L'alipasteris. Età? 16 anni. Quando è il tuo compleanno? L'8 dicembre 2001. Altezza? Un metro e 84. Dove sei nato? Venezia. Dove vivi? Ancora a Venezia. Scuola che frequenti? Frequento l'Istituto Musarti di Dodo. Promosso? Promosso. Colore degli occhi? Marroni? Sì, marroni. Colore dei capelli? Marrone. Filmo preferito? L'ultimo di monetario. Serie TV preferita? 13. Videogioco preferito? Videogioco preferito è il mio caro amico CSGO. Servizi a pagamento sui tipi datati per lo streaming? Servizio streaming con Netflix tutta la vita. Preferisci leggere un libro o guardare un film? Guardare un film. Posto che vuoi visitare? Royale. Hobby? YouTube. Quadra che tipi? Il Milan. Che sport ti piace? Mi piace un po' di tutto. Che sport segui? Seguo il calcio. Che sport hai fatto da piccolo? Ho fatto nuoto, rugby, tennis e altri sport che non mi ricordo perché ero troppo piccolo. Genere di musica preferita? Pop e remix. Cantante preferito? Il mio cantante preferito è O-M-F-G. Tuo tallone è la fise? Non lo so, quindi passo alla prossima. Pazzia che hai fatto? Pazzia che ho fatto insieme ai miei amici. Se ne ho fatte tante, tante che bisogna trascurare. Un ricordo dai zero ai dieci anni? Di essere nato. Ti hanno mai fatto proposte inducenti? Mai. La parolaccia che dici più spesso? Che cazzo. La parolaccia che ti dicono più spesso? E' una faccola. La gioia più grande della tua vita? Mia sorella. Una frase nel tuo dialetto? Che siamo? Cosa vuol dire? Ci siamo. Per te valgono tanto i soldi? No. Se vincessi dieci milioni di euro, cosa faresti? Li direi beneficenza. Non tutti. Un po'. Titolo del più bel libro l'ho letto? Non ho tanto letto neanche tanti libri, però dico il piccolo principe. Titolo della canzone più bella mai ascoltata? Il Langham remix di Don Lennie Down. Titolo dell'album più bello mai ascoltato? Vabbè, balliamo. Cattone animato preferito? Guardo però il mio vecchio era Dragon Ball GT. Il più bel programma? Sara Banda. Piatto preferito? Sushi. Vivanda preferita? Acqua con limone. Gusto di gelato preferito? Saker. Chi vince lei al campionato quest'anno? Il Milan, spero. La più bella partita mai vista? Sono andato allo stadio di San Siro a vedere i preliminari di Champions contro il PS9 e ha vinto il Milan 2-0 con il Dott. Doppietà. Doppietà! La più bella azione mai vista nel calcio? Un gol di Van Persi al Scorpio. Io direi la pronunciata di Ibrahimovic contro l'Inghilterra al novantesimo minuto da fuori aria. Che gol per la volta. Che gol. Per lei è un Maradona? Un Maradona? Miglior cortiere del mondo? Della Roma. Miglior difensore? Bonucci, perché ora è il Milan. Miglior centrocampista? Montolivo. Miglior attaccante? Cutrone. Credi in Dio? Sì e no. Vai in chiesa? No. Ti capita di bestemmiare? No. Sei stato sincero in tutte le risposte? Sì, anche di più di sincero. Fai un saluto? Adios! Io scommetto che metti il pittro in bianco e nero e io che parlo e lascerai questa parte. Ci giuro, giuro che lo farai. Sì, anche di più. Sì, anche di più.